Buongiorno, sono Pina Carboni, professore ordinario di diritto pubblico accompalato presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Sassari. Negli ultimi anni le mie ricerche si sono occupate di regionalismo, di benessere, di salute pubblica. Il tema della salute pubblica si sposa benissimo con quello dello sport. Come delegato allo sport vorrei che le attività sportive nell'università fossero valorizzate appunto per il benessere collettivo come occasione di incontro, di confronto per gli studenti e soprattutto che diventassero parte del percorso formativo come avviene in molte altre università in Europa e non solo.